Vedete tutta questa attrezzatura intorno a me? Telecamere, cavalletti, proiettori, stativi... Voglio dirvi un segreto. Non sa funzionare da sola. Sono soltanto degli strumenti, pieni di pulsanti e manopole. Ma bisogna saperli utilizzare. Ed è qui che entriamo in gioco noi. Da anni ci occupiamo della realizzazione di cortometraggio. Spot pubblicitari e documentari. E il nostro scopo è quello di guidarvi passo passo nella creazione del prodotto audiovisivo adatto alle vostre esigenze. Chi crede in noi, crede nei giovani e in un futuro migliore. La regola è non fermarsi mai. E noi l'abbiamo rispettata. Anche nei mesi più complicati, siamo stati leader nello streaming e negli eventi con un grande pubblico. Ci siamo adeguati ai tempi, dando vita a set virtuali. Perché il mondo è in continua trasformazione. E la capacità di adattarsi ai tempi è la nostra priorità. E anche la vostra. Videomnia non soltanto un nome, ma una vera e propria filosofia aziendale. Da oltre trent'anni ci occupiamo del linguaggio audiovisivo a tutto tondo. Diffidate da chi parla e basta. Venite a trovarci presso le nostre sedi e scopritelo di persona. Troverete un gruppo affiatato, coeso, compatto, amici e colleghi uniti da un unico obiettivo di mostrare con i fatti professionalità e competenza. Ciò è stato reso possibile dalla presenza di un team competente composto da professionisti con esperienza e giovani pieni di voglia di fare che favoriscono il giusto equilibrio tra conoscenza e innovazione, tra storia e futuro. Noi ti garantiamo costanza, impegno e risultati. Noi ti garantiamo Video Omnia.